Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Rock and Riot, un appuntamento che spero sarà settimanale qui su liberi.tv, stasera siamo in diretta quindi mi scuso anticipatamente perché sicuramente mi impappinerò. Rock and Riot è una trasmissione che si pone come scopo, quello di analizzare l'influenza che la musica, quindi uno strumento, un mezzo di comunicazione considerato da sempre leggero, ha avuto invece sulla creazione dei movimenti per l'affermazione dei diritti civili, la musica soprattutto rock e questa sera soprattutto folk, che ruolo ha avuto poi sulla presa di coscienza da parte degli ascoltatori, su quelli che appunto erano, su quelli che sono i loro diritti, quale ruolo ha avuto sulla formazione dell'opinione pubblica? Noi partiremo questa sera dalla guerra in Vietnam e dalla creazione e dall'affermazione dei movimenti pacifisti e contro la guerra, sulla guerra in Vietnam è stato detto probabilmente tutto, sono stati fatti tantissimi film ma soprattutto sono state fatte tantissime canzoni, perché? Perché dopo le due guerre mondiali, la guerra in Vietnam è stata innanzitutto una delle guerre più importanti del secolo scorso, del nostro secolo ma soprattutto perché è stata la prima vista, cioè i cittadini tornavano a casa e tramite i telegiornali e tramite la televisione, tramite le fotografie, potevano vedere quello che succedeva, cioè erano consapevoli di quello che stava accadendo e questo ha creato coscienza e soprattutto quelle che erano le rock star dei tempi, basti pensare a John Lennon anche negli anni 60 con i Beatles, fine anni 60-70, da solo penso fosse il personaggio più potente, probabilmente più influente che la storia sicuramente della musica possa ricordare. Allora, guerra del Vietnam, nel 1954 siamo in piena fase rock and roll, rock a billy e rock, musica leggera è l'unica musica di protesta, sicuramente non è mainstream, sicuramente non raggiunge i vetti delle classifiche, non arriva in classifica billboard, cosa che invece succederà durante la guerra in Vietnam, c'è pezzi di protesta, rock, entrano in classifica. Nel 1954 la Francia perde il Vietnam come colonia e viene diviso in due parti, Vietnam del nord filo comunista e Vietnam del sud filo occidentale sotto l'influenza americana. Gli accordi di Ginevra stabiliscono che si debba andare velocemente ad elezioni, ma questo non succede, perché? Perché gli Stati Uniti hanno paura di perdere l'influenza e il dominio sul Vietnam del sud. La situazione cambia o comunque iniziano gli eventi che poi porteranno alla guerra del Vietnam nel 1960, viene costituito il fronte di liberazione nazionale nel Vietnam del sud e a questo punto Kennedy che è Presidente nel 1960 inizia ad inviare contingenti americani. Nel 1960, inizio anni 60, si affaccia sulla scena un giovane folkman che è Bob Dylan che stiamo citendo e questo è Free Willing, credo sia uno degli album con le copertine più belle e più famose sicuramente della storia. È il suo secondo album, ancora il primo è di cover, qua sono poco cover, ma soprattutto c'è Blow in the Wind che viene considerato da tutti uno degli inni più famosi dei tempi, cioè un inno alla pace. In realtà è una poesia molto bella, non è ancora una canzone di protesta, canzoni di protesta che poi caratterizzeranno tutta l'opera, tutto il lavoro di Dylan. È semplicemente un esortare alla pace, diventerà un inno perché la sua compagna dei tempi, che era Joan Betts, che non è lei, lei è il suo sirotolo, inizierà a cantarla in giro nell'università e diventerà perché all'università saranno fautrici, gli studenti saranno fautrici del cambiamento e della rivoluzione che poi si è avuta grazie appunto alla musica, perché cantanti come gli MC5 o Neil Young, Crosby Stilna Sheehan, si sbirono durante le proteste, durante le proteste nelle università. Nel 1963 c'è ancora la situazione, si hanno grandi cambiamenti perché innanzitutto viene rovesciato il governo del sud, si è un colpo di stato e tre settimane dopo viene assassinato John Kennedy. Di questi cambiamenti Bob Dylan si fa portavoce col suo terzo album, ancora non è la svolta elettrica che si avrà al festival di Newport, dove prenderà un sacco di fischi ma probabilmente cambierà completamente la sua carriera. Questo è il terzo album, non ce l'ho purtroppo, però questa è la copertina, si chiama The Times They Are Changing e questa è già una canzone più di protesta. è veramente troppo adesso. Scusate le spalle. The Times They Are Changing. In realtà viene considerato un inno al cambiamento, in realtà un inno a prendere atto che i tempi stanno cambiando. Lui esorta i cittadini, lui esorta le madri, i padri, i senatori, i membri del congresso a prendere atto che i tempi stanno cambiando. A muoversi perché altrimenti si affogherà con il cambiamento dei tempi. E i tempi stanno davvero cambiando, perché siamo nel 64, anno di uscita di questo album, John Kennedy è stato assassinato e Johnson succede a Kennedy. Johnson diventa il trentasesimo presidente degli Stati Uniti e conferma l'impegno americano in Vietnam, anzi lo aumenta, conferma l'impegno sia militare che economico. Un episodio che è quello della caccia a torpedine Maddox dà poi la scusa, la possibilità a Johnson di chiedere l'appoggio del congresso americano alla guerra in Vietnam. Un caccia a torpedine americano subisce degli attacchi da caccia a torpedine nord vietnamiti. A questo punto Johnson chiede al congresso di appoggiare l'intervento attivo, l'intervento degli Stati Uniti in America e davvero i tempi a questo punto sono cambiati. Dal 64 al 66 l'intervento, ovviamente la guerra nell'ottica di tutti e soprattutto di Johnson sarebbe dovuta durare poco, è una guerra lunghissima, durerà 2376 6 giorni e porterà conseguenze all'epoca inimmaginabili. Ma comunque la popolazione viene rassicurata sulla brevità della guerra e sulla facilità con cui si sarebbe sconfitto il nemico. Nel 65 vengono inviati i marini, iniziano ad essere programmati bombardamenti aerei sistematici, anche questi teoricamente di brevissima durata, in realtà dalla seconda guerra mondiale in poi i più lunghi della storia. Cosa succede? Iniziano operazioni massicce, vengono inviati sempre più uomini, ma a questo punto le proteste si fanno sempre più forti, le proteste si fanno sempre più pesanti e le università iniziano ad essere occupate, perché appunto non sono solo gli hippie, non sono solo i vagabondi, quelli considerati scappati di casa a protestare, ma sono i figli della classe alta, sono gli studenti, è la parte colta della popolazione che scende in piazza o occupa l'università in segno di protesta. Nel 66 ancora non sono culminato, culmineranno nel 68 e nel 69 addirittura con sparatori, ma appunto le manifestazioni si fanno sempre più forti e si arriva a degli scontri. Nel 68 gli MC5 fanno questo, è un album live, adesso lo metto e nel 68 la situazione è abbastanza tragica, nel senso che ormai è evidente che la guerra non sta per essere vinta e il Presidente Johnson durante la convention democratica a Chicago annuncia che non si sarebbe più candidato. Durante questa convention a Chicago si esibiscono gli MC5, che sono un gruppo di folli che hanno dato inizio al punk e a tutto la musica sporca e gara che c'è oggi. Ok, hanno fatto Kick Out the Gems, parte dalla fine del primo pezzo perché è fondamentale all'inizio e purtroppo il giro a rischio è un pochino più difficile selezionare il pezzo. Allora, è il loro primo live, hanno fatto pochissimi dischi, questo non è il concerto di Detroit ma è sempre un altro live e particolarità di questo gruppo oltre ad essersi fatto tutte le manifestazioni possibili e immaginabili esibendosi. Il loro manager era John Sinclair che era il leader delle White Panther, un partito di appoggio alle Black Panther, poi magari fermo un'altra puntata su di questo. Loro hanno fatto questo pezzo, si chiama Kick Out the Gems, che è introducibile, il senso è svegliatevi, datevi una mossa ed è un pezzo diventato famosissimo per il linguaggio iper scurrile. Non so se ti ha sentito, lui urla Kick Out the Gems, motherfucker. Per la prima volta un disco registrato perché è un live ma è stato dato alle radio, è stato diffuso in un disco, in un disco viene usato il termine Motherfucker. Il pezzo è sporchissimo, però rappresenta il sentimento diffuso all'epoca, cioè la voglia di cambiamento e la voglia di ribellione, la voglia di non sottostare più a quello che la borghesia imponeva e questo perché? Perché inizia ad esserci la consapevolezza che sia una guerra ipocrita e sia una guerra ingiusta. Quindi tutti i canoni sociali vengono rotti e un gruppo si può permettere di far uscire un album con Motherfucker. Ovviamente le radio non l'hanno passato e quindi l'hanno dovuto registrare nuovamente, è stato dato il singolo con Brother and Sister mi sembra al posto di Motherfucker. Gli MC5 si sono esibiti durante la convention democratica a Chicago, durante quella convention ci sono stati fortissimi scontri tra manifestanti che erano andati appunto a manifestare e la polizia che spacciò nell'arresto di 7 persone e portò a una famosissima canzone di Graham Nash, ovviamente famosa per aver suonato con il gruppo Crosby Steel Nash a cui si aggiunse poi Young. Adesso la metto. E appunto è famosissimo perché sempre dei folk singer, cioè dei cantanti folk che arrivano da esperienze diverse perché Stephen Steel il segno Young arrivano da Buffalo Springfield. Lui suonava con i birds che hanno portato diciamo al successo in quegli anni perché arrivò tra penso i primi, i numeri uno, Turn 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 un pezzo di Pete Seeger in realtà preso dal libro dell'Ecclesiaste a cui Pete Seeger aggiunse solo l'ultimo verso ed era giuro non è troppo tardi per la pace. Fanno questo pezzo e si esiberanno anche durante il festival di Woodstock. Ok, è difficilissimo trovare l'inizio del pezzo, spero, no. Niente, me l'ho sentito iniziata. Tanto la parte fondamentale è la parte in cui lui canta We can change the world perché il mondo sta cambiando. Allora, siamo nel 68 a seguito degli Siamo nel 68, convention democratica di Chicago, scontri della polizia, elezioni presidenziali e viene eletto Nixon. Nixon durante la prima apparizione pubblica da presidente conferma non solo l'impegno e il rafforzamento dell'invio di truppe in Vietnam, ma dice anche io non sarò di certo il primo presidente adesso degli Stati Uniti a perdere una guerra. Così non è stato e nel 69 la popolazione continua a essere rassicurata, nel senso che si continua a dire che la guerra è vicina alla fine e il nemico sta per essere battuto. In realtà così non è e diciamo che l'offensiva del test messa in atto dal Vietnam del nord, dal Vietnam contro le basi americane in Vietnam del sud è dimostrato il contrario. A livello militare non è stato nulla di che, nulla di così grosso, ma ha avuto un impatto fortissimo sulle opinioni pubbliche, perché avendo i presidenti continuavano a dire che questa guerra la stiamo vincendo, la stiamo finendo, anzi inizieremo ad usare tattiche difensive e a ritirare mano a mano le truppe, il nemico è quasi sconfitto, in realtà l'offensiva del TET ha dimostrato che il nemico non era minimamente quasi sconfitto. A seguito di questo Nixon decide di invadere la Cambogia, cioè decide di usare la Cambogia per avere più possibilità di vittoria. Contestualmente le proteste aumentano fino a sfociare da una parte all'episodio tristissimo che era quello del Kent State e io purtroppo non ho trovato, quindi Yang ha fatto un pezzo meraviglioso che vi vorrei far sentire settimana prossima. Nixon decide appunto di invadere la Cambogia, Nixon decide di invadere la Cambogia, viene organizzata un'occupazione di 4 giorni con una manifestazione alla Kent State University in Ohio, la Guardia Nazionale non riuscendo a disperdere i manifestanti che erano quasi, erano poco più di 3000, spara, spara sulla folla, apre il fuoco e 4 ragazzi vengono uccisi e altri 9 restano feriti. Mi Yang, amico di Crosby, Nash e Still, scrive di getto una canzone che si chiama Ohio e è molto 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 bella, si trova o nella versione riedita di Deja Vu che è un altro album meraviglioso, però in questa non c'è, o in Sofar che è un album live di Crosby, Still, Nash e Yang sempre. Non solo Neil Yang scrive appunto Ohio a seguito della Kent University, ma le manifestazioni arrivano a un culmine tale che viene organizzato il festival di Woodstock, chiamato anche il festival di Pace, appunto per l'affermazione della pace, partecipano al livello artistico, partecipa il mondo, a livello di artisti partecipano tutti, io però vi vorrei far sentire i Creedence Clearwater Revival, un po' perché li adoro, un po' perché ho questo disco e un po' perché ogni, questo è un live, e un po' perché secondo me Fortunateson, se riusciamo a trovarla, rappresenta non solo lo spirito pacifista, ma lo spirito proprio di ribellione a quella che iniziava a sembrare una guerra particolarmente ingiusta, è una guerra ipocrita, perché Fortunateson è contro i figli dei privilegiati, cioè contro chi non è stato mandato in guerra, quindi i figli dei senatori, speranmi adesso ve la metto, se la trovo, ok, questo è un live, quindi l'effetto è un live, allora Fortunateson, è uscita in John and the Poor Boy, non lo trovo, ok, questo, che è il loro terzo album, è sempre il folk, perché la protesta in questo periodo è stata appunto, è partita dal folk e il folk, musica di protesta, è diventata mainstream ed è arrivata ai primi posti in classifica, questa canzone, nell'ottica dello spirito di pace, questa canzone si è discosta un attimo, nel senso che veramente è contro i privilegiati, Fogarty dice non sono io, non sono io il figlio del senatore, non sono io quello fortunato che non è stato mandato, per anni ci sono state speculazioni su chi potesse essere, da una parte c'era chi diceva che fosse El Gorda, da una parte c'era chi diceva che fosse George Bush e in realtà anni dopo Fogarty in un'intervista ha dichiarato che si trattava di David Eisenhower, il nipote di Eisenhower che aveva sposato in quel periodo la figlia di Reagan e ovviamente non era stato chiamato al fronte in un periodo in cui la leva era tornata obbligatoria. Sempre nel 69, quindi canzone folk di proteste contro i privilegi Woodstock, ma soprattutto la super mega rock star del pianeta, Giolennon, scrive durante la… i Beatles ancora ufficialmente nel 69 non si sono sciolti, si scioglieranno da lì a poco, Giolennon sposa Yoko Ono e durante la luna di miele scrive, questa è una collezione che oggettivamente è molto 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 bella, scrive una serie di petti dove la pace è il bene e il valore supremo. Io ho scelto di mettere Give me a chance perché mi sembra veramente questa dopo quelle di Bob Dylan, il vero manifesto contro la guerra in Vietnam, ma anche in mezzo, credo una canzone presa a caso dagli album di Lennon solista. Sicuramente lo è. Ok. La cosa folla è che… o folla comunque… aveva talmente tanto seguito Giolennon che da una parte giustamente decise di usare la sua importanza per fare dei commercio, degli spot per la pace, cioè organizzò i bed in con Yoko Ono dove lui da un letto lanciava messaggi di pace, cioè lui ha deciso di usare la sua immagine per un messaggio più grande e più alto di lui. Tutto quello che dico è diamo una possibilità alla pace. Cosa folla è che Nixon lo teneva talmente tanto, John Lennon negli anni 70, nel 70, nel 71 arrivò in America e gli misero la CIA dietro, cioè non avevano talmente paura che lui fosse così influente da smuovere l'opinione, da smuovere le menti, cosa che probabilmente era da mettergli la CIA, c'è un film molto carino che si chiama The US vs. John Lennon che racconta questa parte. Il testo è semplicissimo, penso che comunque tutti lo conoscano. Tutto quello che diciamo è diamo una possibilità alla pace, in realtà questa possibilità alla pace non viene data, il governo americano inizia a fare degli accordi, inizia a capire se la guerra può finire o meno, ma di fatto la richiesta di Bob Dylan resta inascoltata. Siamo nel 69, questo è appunto John Lennon con Yoko Ono e questa è stata la prima disastrosa puntata, mi scuso perché la diretta almeno non mi sono impattinata e io non so se abbiamo risposto, se ho risposto alla domanda il rock salverà il mondo o la musica ha cambiato il mondo. Sicuramente persone come Bob Dylan, John Lennon, Neil Young, anche gli Stones hanno fatto una … sì, volendo uno mette in mezzo anche gli Stones con Gimme Shelter e all'apice del successo hanno fatto una canzone che è riuscita forse a raccontare, a descrivere il sentimento di… di senso di apocalisse, di impotenza, di paura anche. Io non so se… per me sì, nel senso che tutto quello che è stato dopo, quindi tutto quello che è avvenuto dopo, non a livello politico, ma sicuramente a livello di presa di coscienza, nel senso che grazie alla mobilitazione che si è avuta contro la guerra in Viettana, ma grazie al fatto che le super mega pop star se ne fossero fatti portavoce, da una parte appunto l'opinione pubblica, le persone normali che… diciamo i concerti era prima di internet, di Facebook, delle chat, di una serie di cose, i concerti erano i momenti di aggregazioni. Ok, la prossima sarà… mi chiedono la prossima su Keith Richards tutta la vita, veramente tutta la vita la facciamo su Keith Richards e gli Stones, anche sulle morti celebre adesso troviamo la scusa politica. Comunque, tutto quello che è avvenuto dopo, quindi dai live aid per raccogliere soldi per l'Africa o da Bono che ha deciso di farsi portavoce di qualsiasi situazione mondiale, di qualsiasi problema, sono nati da questo. La prossima puntata io vorrei… perché ringrazio comunque anche… ah, devo ringraziare Transmission che è il negozio di rischi migliore di Roma per i rischi e per i consigli e soprattutto Nicolò per l'amplificatore perché almeno oggi si è rotto e quindi non l'avremmo fatta. Direte voi, forse sarebbe stato meglio, però almeno l'abbiamo fatta. La prossima puntata vorrei… questo ovviamente è stata una panoramica sugli anni, sul periodo, vorrei andare un pochino più nello specifico, però trovo giusto e coerente aver iniziato con Bob Dylan e chiudere con John Lennon. Grazie a tutti per aver supportato questa prima puntata di Rock n Riot e a venerdì prossimo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.